Le dichiarazioni ufficiali non lascerebbero spazio ad interpretazioni. Il centrodestra unito alle prossime regionali lo raccontano da ogni angolo della coalizione, ma dietro le dichiarazioni ufficiali ci sono le fibrillazioni che qualche volta emergono in maniera evidente. Il centrodestra unito è quello che con Fratelli d'Italia e Forza Italia ha organizzato manifestazioni alla presenza dei leader nazionali per sostenere la candidatura di Raffaele Fitto, ma dovrebbe essere lo stesso nel quale la Lega al momento si muove per conto proprio. Venerdì scorso a Bari c'era il leader Matteo Salvini, ma non c'era a quella manifestazione Raffaele Fitto. C'era invece Nuccio Altieri, investito ufficialmente del ruolo di vicepresidente in caso di successo del centrodestra. Fitto, nella giornata di sabato, era al tavolo con i forzisti Antonio Tajani, Mauro Dattis, Licia Ronzulli e Dario Damiani. Sui rapporti con la Lega, l'europarlamentare Salentino ha rassicurato, nessun problema, ci saranno appuntamenti elettorali da condividere. I leghisti però non hanno digerito la presenza di Angelo Cera e di suo figlio Napoleone alla conferenza stampa di Forza Italia. Presenza imbarazzante, l'ha definita il segretario regionale Luigi Deramo. Che la coalizione debba aprirsi ed essere inclusiva è un'opzione che però non può e non deve scivolare nel peggiore trasformismo di chi, ancora oggi, sostiene la sinistra, la giunta Emiliano e con lui è addirittura coinvolto in vicende che la magistratura sta approfondendo, puntualizza l'esponente leghista. Chiediamo quindi affitto e a Forza Italia di prendere immediatamente le distanze, ammoliscono i leghisti, fibrillazioni di un centrodestra unito.